Il Vangelo di questa domenica ci presenta una scena di vocazione, una serie di vocazioni. Ma cosa sta sotto? Il contagio, il contagio del bene, il fascino, il fascino di Gesù. Chi lo vede, chi lo incontra, ne rimane affascinato, ne rimane contagiato in bene. Giovanni, che certamente già doveva avere un buon rapporto con i suoi discepoli, presenta Gesù e due lo seguono. Ma notiamo quelle domande apparentemente banali, ma in realtà molto profonde. Che cercate? E se oggi Gesù domanda a me, che cerchi? Chissà se so rispondere. I due discepoli dicono dove abiti, dove dimori? Cercano la stabilità di Gesù, il rapporto fisso con Lui, cercano di fare esperienza di Lui. E Gesù risponde semplicemente venite e vedete. Vanno, bello è qui il Vangelo. Andarono, videro, rimasero. L'esperienza. L'esperienza viva con Gesù, affascinati da Lui, restano con Lui. E quando torna a casa, uno di due, l'Andrea, chiama il fratello, racconta. E il racconto di un episodio, di un incontro affascinante, affascina a sua volta. E porta anche il fratello da Gesù. E anche Pietro resta affascinato. Quando diciamo che il Vangelo si diffonde a contatto, per testimonianza, per esperienza viva. Non è un qualcosa di astratto. È esperienza viva. È incontro col Signore. E chi incontra il Signore sta con Lui. Se in questa domenica io riuscissi a capire dove abita il Signore, in chiesa, ma anche in casa mia, nell'intimo della mia coscienza, entrare, vedere e rimanere, stare accanto al Signore, in ascolto di Lui, è tutto, è l'essenziale. Poi il resto è conseguenza. Buona domenica.